La nostra generazione ha purtroppo fallito con i propri figli, con i nostri figli. Cerchiamo di mettere un'argine per non fallire anche con quelli che sono o saranno i nostri nipoti. Non c'è più tempo. E l'allarme lanciato da Fabio Cappa, 50 anni, esperto di finanza sostenibile, che vive nella valle del Monte Bianco, immerso in una natura sempre più minacciata dal genere umano. La causa principale, ci ha spiegato, è l'aumento delle emissioni di CO2 che genera l'effetto serra. Il riscaldamento del pianeta comporta lo scioglimento degli acciai, l'aumento dei livelli dei mari e soprattutto gli eventi estremi, sempre più frequenti anche nel nostro paese. Quello che una volta cadeva ogni 100 anni, ha dichiarato, accadrà ogni anno. Cappa che ha maturato oltre 35 anni di esperienza nel settore bancario. Questa sera, alle ore 21, terrà un convegno nella sala congressi dell'ex chiesa del gonfalone a Fano. Non a caso, il titolo scelto per l'appuntamento è la finanza sostenibile a supporto del pianeta. Parole che ben si sposano con la mission del Paese dei Balocchi. Michele, dunque continua il programma del Paese dei Balocchi? Sì, esatto. Quest'anno questa Smart Edition è molto più allungata. Magari non ci sono migliaia di persone che vengono al Paese dei Balocchi, ma queste serate sono veramente interessanti. Ne abbiamo già fatte alcune. Usciamo da questo concerto di Bungaro che è stato veramente eccezionale. Oggi invece, per questo anno dedicato alla parola, la parola di questa sera è sostenibilità. Sarà sicuramente una serata importante perché è veramente una persona che in quell'ora che parlerà, ci dirà delle cose molto interessanti. Voglio che i miei figli, si leggono il sito di Fabio K, possano ascoltare il silenzio battato di una nevicata e riconoscano le orme dei cervi e dei camusci la mattina mentre spensierati e felici vanno a scuola. I colori di una barriera corallina, un gruppo di delfini che mi fa compagnia per tutta l'immersione. Il desiderio dell'esperto è che le future generazioni possano ancora contare su queste meraviglie. Purtroppo giro per documentare perché ho ben chiaro quello che sta accadendo a causa dei cambiamenti climatici. Non c'è più il rischio di perdere qualcosa, c'è la certezza di perdere qualcosa. Quindi sensibilizzare l'informazione, l'opinione pubblica, mandando dei messaggi e testimonianze dirette al fianco di quello che ci dice la scienza. Siamo a meno di un passo dal baratro. Quello che sarà il nostro atteggiamento dei prossimi dieci anni determinerà il futuro del pianeta dei prossimi dieci mila. Quindi non abbiamo assolutamente più tempo da perdere. Che cosa possono fare istituzioni e cittadini? Mi piacerebbe poter dire mettiamo pannelli solari su ogni tetto, passiamo all'auto ibrida o elettrica, arriviamo a una differenziata veramente al 100% e ce la faremo. Purtroppo mentirei spudoratamente. Siamo fuori tempo massimo. Questi rimedi ha proseguito per quanto fondamentali avrebbero sortito effetti se il calendario avesse segnato una data del 1990. Ora quindi dobbiamo far perno sull'unica leva attorno alla quale gira il mondo, cioè il denaro, dobbiamo smettere, ha detto K, di finanziare con i nostri risparmi società che per pura miopia non realizzano la svolta sostenibile. È finito il tempo di non domandarci il fondo comune di investimento sul quale andiamo ad investire che aziende sta finanziando col nostro denaro. Smettiamola di essere complici, inconsapevoli, ma complici a quello che sta accadendo.